Io continuo e pensare, cosa stai chiedendo nella sua mente? Beh, io lo so, io ho conosco la mente di Riley. Gioia si trova nel porto generale, una stanza illuminata da un enorme schermo. Di fronte a lei c'è un pannello di controllo. Nell'istante in cui lei tra in un tasto, la piccola Riley, tra le grazie dei suoi genitori, sorride felice. Una spara onorata scivola giù, illumina la stanza, al ricordo di questi attimi sereni. Riley è una bambina felice che abita in un'usota con i suoi genitori. Giorno dopo giorno Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti